musica 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 spazio oh per i ripanzai oh 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 non fare il cretino no e beh un altro che mi spara a fuoco appena sono bastardo sei già morto c'ho una chiave lì fuori ma lo guardalo che figo è sto ambiente guarda quello lì fuori guarda lì fuori non sparargli guardalo e basta non spara ma è incazzato è più incazzato oh come ti permetti oh sei svegliato ma come arriva a spararti prima stronzo è morto stanno arrivando delle vespe random oh ma sto livello è strafico eh comunque mi ricorda a doom siamo morti cosa hai fatto? si apre qua eh assù kawabanga kawabanga tredici colpi eh oh 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 lol ma che male non farlo salire ma cos'è sto rumore di serpente spettro penso a quello verde io eh madonna ma che cazzo il fantasma eh basta oh ma basta ma quanto è 10 di vita perde non ci credo questo eh si spara gran bucato eh grande cerca la penetrazione in shadow marion no questo è troppo coprimi andiamo a ricaricare non me ne frega un cazzo coglione hai capito? no vabbè però ho fatto fuori il verde che era un casino squartali 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 tagliali ma che cazzo si qual'è l'altra parte si 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 morto quindi ho anche un medici ma che bello è sto livello cos'è ahia io non lo premo sto coso arrivo 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 merda che altro se non premerlo ops fare il paxo l'hai premuto? oh fermo guarda là è venuto giù la chiave ma prendiamo l'arma quella lì dai che mi ispira mi ispira mi ispira un cazzo di lanciarazzi in altro va lì va lì zio no ma è impossibile prenderlo eh sì ma l'hai mancato anche tu ma non si sfraccella mai ok aspetta aspetta BANZAI sarai fatta? sì e ti dirò di più vado a prendere anche la chiave minchio che spavento eh lo so che cosa non mi ricordo penso ogni volta che moriamo per riprendere il lanciarazzi l'ho presa la chiave l'ho anche messa non ho ancora aperto mi serve la riot ma lì c'è un'altra chiave aha la riot dov'è che la giusto era qua nascosta non ce ne erano due d'oro oh su che? due d'oro e questa è l'unica strada per ora eh sì guarda torna indietro qua ce n'è un'altra facciamo che cominci a sparare con la riot cazzo alle zanzale di merda no 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 abbiamo troppi pochi colpi vabbè lì c'è un'altra chiave ma non possiamo fare un ca aha vabbè ma ci arriveremo dopo sono sicuro oh su pronto oppure ci arrivavi dal bordo scusa no no finiva lì il bordo sì sì finivi lì allora basta dai oh no via via dietro via 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 non ci credo è entrata ma dov'è? ci ammazziamo me la sento ma mi sta ammazzando è diverso bravissimo sta app oh basta da 100 eh sono 40 un'altra è entrata ahia si uo uo scappa vabbè basta eh che spavento bella 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 ora gay no no anche ti lascio c'è un miniboss c'è un cazzo di miniboss e fa anche parecchi versi oh oh arriva il gorilla gorilla Godzilla gorilla Godzilla ma che cazzo vuole? zitto e basta miniboss del cazzo coprimi ti ha spoccato? ci penso io arrivo arrivo non me ne frega un cazzo eh no biglietti fantasma aiuto sa mamma e che è un caffè che credo ad essere uno stronzo c'è dietro a te scuola balla sei morto come come ho sputato rosso il libro e c'è una porta rossa non ci abbiamo la chiave rossa ma c'è che è da salire il sile che cazzo ma io il camicazze morti in culo stronzo e finalmente l'ho preso o di qua si sale ma che cazzo qua che cazzo non ho fatto prendermi uno anche dall'altra parte mi sta spaccando dc quello sopra è in rabbia eppure quello davanti a me credo che sei schizzato davanti ai miei occhi no no bello spazio no questo non lo meritavo su scuola ma chiesto che grida in questo modo traccia ma cosa che sta esplodendo e io c'ho il tipo l'orchetto che mi rompe i coglioni aiuto parlo al gorillone ho finito le armi ma dove sei uso gli shuriken allora che non sai dove sono io guardate la mia visita ma lo piglio a sberle dove cazzo sei se non sei di qua sei di là infatti stronzo muori l'hai spaccato quel pazzo ci sono dei bottoni pure il cuore li premiamo? li premiamo tutti e due premi l'altro siamo morti sicuro che erano da premere entrambi qua? ho premuto E su un muro e fa oh diamine non attraverso i muri ma c'è un babbuino o sbaglio? si guarda la voglia di essere riempito a pugni guarda il mio amico dove cazzo va ci vieni mi addosso cretino mi hai rotto le palle ha sfondato a pugni ho già premuto qua tutte e due quindi sono quattro i bottoni si ora scendiamo guarda il mio amico è qua davanti a me di kit che cazzo fa ora che abbiamo premuto quattro bottoni aspetta che ti ho un po' perso ma la ste pantere ma non c'è appartenente guarda se si possono ridisattivare si 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 se si possono ridisattivare basta fine del gioco mille combinazioni ma cosa? metti la chiave figli di... ok madonna le vesto appena escono aperto sei tornato da aria 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 da cento di vita oh no no cazzo la non cazzo chiamare di là ma già preso cazzo abbiamo mi vado a prendere in me di kit se non andrò a premere un po' a cazzo i pulsanti e te mi dici se capita qualcosa a prendere a cazzo i pulsanti a premere a cazzo premere a cazzo premere pulsanti un po' cazzo ahah non so dove guardare e vi sono sentire amico mio vabbè dimmi quando ne premi uno non premuti un po' non è cambiato un cazzo mhm sicuro di averne premuti si sto facendo il secondo giro sento sti cazzo di mosche oppure sento a sgroppettare e sbagliare film a premere i pulsanti non succede un cazzo non succede niente c'è una combinazione eh tu facciamo che io vado di qua o di là ma sei sicuro sono quattro cazzo sono quattro sei davanti ai pulsanti tutte e due no aspetta che ci vado stavo cercando di capire ci sei tu qua vai dall'altra parte vai ci sono uno spento uno acceso vai no aspetta hai sentito si 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 è aperto qualcosa andiamo a cercare ora non ho cliccato niente ah mi si è aperto da me da te vieni da me si vieni da me amico guarda cosa si è aperto un'arena alla doom ah su di sopra c'è la tua arma preferita e c'è pure il red che serviva non mi ricordo dove giù giù c'è una porta rossa seguimi secondo te si aprirà una porta anche dall'altra parte? no perché la stanza è solo questa no alla fine si gira intorno vabbè e dove cazzo sei aspetta non è di qua eccola qua vai che arma stai tenendo? eh indovina vai avanti te allora oh bello vai avanti tu Aleppo figata a questo punto vado eh oh cazzo che trip vai continuo a girare come uno stronzo no fidati bella lì vado a capire che oh oh bello oh c'è un pezzo di merda tutto tuo eh ci credo non far cazzate vai dentro al tunnel e spa ma aspetta da dove siamo venuti noi? da qua è una strada segreta quella dove hai lanciato la granata si si di qua ma per te io ci ho premuto sopra banzai ah c'è un pulsante qua dentro non ci credo ho il cuore fermo non far cazzate si si stai lasciando nade? no si ho lasciato le mine è lui che sta facendo pulizia no? si si secondo me se vado avanti di qua mi porta lì dove è successo il casino provo io vai continuo a girar come un cretino si guardami eeeh beh dai un pazzo fortuna dove cazzo uscivamo? un acido oh troppo bello oh troppo bello cazzo minchia ho andato un acido dopo un tri qua si apre dai si si a cazzo si apre eeeh ray gun se mi butto dentro secondo te ci provo quanta vi dai? 150 col cazzo vado io no dai ti ho sempre voluto bene no non farlo andiamo prima più avanti tanto ho solo 10 colpi quanta vi dai? eh pochissima mmmm tan pochissima si tutto il culo ok vieni 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 vai 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 c'è un medikit qua prendilo non ci credo non ci credo devastante ma che figo è sto punto iniziamo un labirinto alla exen io mi voglio buttare dentro a arrivo eh oh su palesemente doom barra exen ok non farlo quanto ti ha levato? 92 alla prima botta 84 alla seconda si minchia quanta vita che avevi aia eh avevo 100 stai attento eh qua non tenere non tenere roba esplosiva guarda che posto polemissima tu è tranquillo c'ho le mine lol va bene eccolo lì no ciao tutto tuo eh k su fammi andare a me va c'è uno spettro aia madonna che violenta fermo dimmi che non hai lanciato una mina no no niente è pieno ok non le lancio mica cazzo le lancio solo quando sono convinto che tu non ci sei invece poi madonna sono troppo malconcio aspetta vabbè andare davanti eh devo prendere un medikit su mi sa c'erano a fare pazzo col medikit ma che un cazzo presi tutti c'erano due fantasmi gli ossegati bravo cazzo c'è qua dietro si apre ale siamo morti oh c'è un tiny secret eh ho premuto un qualcosa c'è morti hai premuto si può anche spegnere si è uscito un cazzo di orco ma tanto noi siamo qua dentro voglio proprio vedere no no ti becca dobbiamo uscire dai ah vai questo come teschio serve per non è per aprire e chiudere questa come no l'ho aperta io con la teschio era acceso ora l'ho spento ma ci deve essere qualcosa qua ahia che male dio dimmi che sei ah ma serve per sta porca cosa che ti è successo sono salito su un pezzo di legno gag non so perché mi ha fatto esplodere così ok il teschio serve per aprire la porta che dicevo io eh non le vabbè arrivo però dove c'era l'orco ti seguo mi devo rifare come mi segui eh con la killcam perché sei andato così da coglione 66 di vita di colpo mi faccio lo staggiero di qua oh su mine viola mai si è vista la viola abbiamo avuto le blu le rosse le viola qua sopra sono salito io ma anch'io anch'io ci sono dei pixel che sono carichi di 9999 danni è l'unica hai passato la porta? si devi riaprirla ah no forse posso farlo io aspetta yeah oh c'è un buco 300 qua io mi butto non c'è la fai paura hai visto come in bf eh fai le scalette vaffanculo aspetta dove sono? no l'hai fatto a cadere? no no ma dove? è caduto un po' però poi mi sono attaccato fortunatamente ma lui oh sono arrivato in fondo io che roba che stacco d'occhio qua minchia qua siamo morti aspetta 3 2 1 e risalgo ok ma va ma che roba dai dai sei le palle dai mi sa che se lo sparo ora fermo eh tra l'altro con K e tu scusa? ti sto seguendo con K vediamo cosa c'è oltre le scale uh per un pelo eh addio muori da eroe dai 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 no 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 che culo si 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 dai dai qualcun altro guarda piglio anche tutto dai dai stronzi dai che tu ne vuoi? dai 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 vieni a prendermi vieni a prendermi vieni grande minchia che cosa come hai detto? oh cazzo ma cos'è una statua tipo? via ma non mi prendi cretino 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 occhio che se ti prende avanti 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 cretino qua c'è una porta silver non c'abbiamo la silver? prova? no no quella cos'è la fine del livello? mi sa di no sono una presa per il culo vabbè ti devo aspettare questo cazzo di punto dai dai intanto aspetto qua che mi piglia questo minchia adesso è un casino arrivare fin là io intanto mi fermo zero armi zero tutto corri 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 si sclock tiki bomb verdi assurdo ma come verdi merda non l'avevo presa io io me la son ricordata ora vai vai sempre dritta scendi scendi corri velocissimo fuoco siiii eh devi aprirla dalla barra vai nel fuoco di fuoco? ehi ehi assurdo mi c'è un'arma pure lì me l'avevo scordato ora butti no no vai da davanti no dai non voglio fare l'urlo e poi riagganciare vai dall'altra parte ok ora salta da qua e vai sulle scale ci metti meno cioè ci metti meno vai ok eh no devi premere ok ma mi da ok si è fatto l'urlo eh si è fatto eh ma anche a me prima mi ha fatto così ah però ho preso le scade in realtà ok ora noi due vai giù giù Ale per poco ma che cazzo fa va bene sali sali ok ah bastati 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 minchia fermo Ale fermo quello eh si ma raffica ma raffica poi le spara se sei in piedi fa frrrr mi senti? le nostre miglioramenti allora vai sai cosa metterti eh ho messo le stellette ninja ah hai capito dove siamo arrivati merda occhio no eh non voglio fare la fine tipo del cos'era il terzo livello che saltavi no io vado me ne sbatto almeno prendi la chiave così e dov'è? si uno l'ho presa a caso dai 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 sei malato? no sono l'ultima speranza del genere umano mi guardo vai dai dai sai le palle no basta piango no basta piango eh dai ce la facciamo in due non ce la facciamo coi salti troppo fottomole marda che schifo sempre da capo no di che di qua c'è una difficoltà di fuori salti con marda dai 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 oh 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 mi sta andando troppo di culo scusa quindi eh si eh tanto ora le cianzarine vai ara loro ti mettono stress di non ci credo stavolta non ce l'ho fatta veramente eh per un pelo vale vale lasciate l'onore vai oh oh poi va scatti tipo ok non farmi ridere che tocca a me ah ti prendi ora le palle di fuoco all'inizio quando esci dalle scale pronto? tu tu eeeh eeeh grande ah noi non abbiamo la seed verchina ma quale qualcosa c'è? abbiamo un'arma esplosiva? eeeh forse si ce l'ho io fermo le mie dove? ma erano in panto scusa vabbè ok ecco tutto per ah bella fermi k ma non ci credo guarda ora quando vai dritto c'è il bus ma possibile che non c'era dall'altra parte? devo dire è che non abbiamo visto dall'altra parte di vura può essere che era nascosto vai dai vieni ti aspetto ti aspectre ti serve vita? no no l'ho già presa uscendo c'erano due due robbi di vita vai piegati piegati mi sono schippata la railgun troppa roba ma tanto devi combattere contro le cazze di zanzare e basta eh ma dopo? no eh sta qualche entrata dentro vabbè io vado di corso arrivo fino al livello io guarda per caso arrivo aia ci ho presa anche una guarda guarda da me guarda da me ti prego mi sta facendo a pezzi l'ape ah ma puoi anche andare dietro girati scusa girati un attimo no no non torno più indietro vai ogni volta che serve un salto devastante ok io sono morto questo vai grande vai prendila prendila prima che sia troppo tardi prendi tutto ora buttati stai scherzando ora ti butti ahahah ahahah ma ti hai soltato boss finale eh grande allora me la dovrei fare veramente tutta indieta la single player vai vai che gioco schifoso Ora prova ad andare dritto Di qua Sì certo No non ce la fai ad arrivare là sopra Impossibile No no direi proprio di no Eppure di là Vuoi dire che se noi andiamo da quella parte lì E saltiamo giù rischio di arrivare qua Cosa stai dicendo Allora guarda Va bene va bene Te lo spiego dopo Oh cazzo Ma cazzo l'ho sfonato Ah giustamente No ora mi spacco le gambe Uh meno male che mi è tornato Ma scusa ora No stiamo scherzando Mi è venuto in mente adesso Cosa Dove che stai andando Guarda con K Oh no torna su torna su torna su E oh piegati appena sali ovviamente Giù Grande Ora lì c'è il buco Minchia se no c'era il vuoto Giù Le seconde scalete ti ricordi Ma è vero Grande Grande Ora però dove cazzo era il coso d'argento All'inizio Era lì lì Cazzo potrò prenderlo anch'io Crettino Un po' di casino Qua non c'è Di qua neanche allora no dall'altra parte Che cazzo di chi avevamo preso Morale della favore Argento Un d'oro No argento Perché ce n'è anche un d'oro Siamo morti allora Argento Mi sa che ci dobbiamo far rifare il Prendo la testa a pugna Dai dai rifacciamo Per forza Ma cosa rifacciamo Sei pazzo Qua dal rosso dai Ah Io di culo c'è la seconda volta che invece non si fa un cazzo No Sì è di qua è di qua L'argento Ma scendi 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 Paura a fuoco eh Paura Ma guarda che secondo me non c'erano porte qua Che cazzo sei di qua Ah vabbè ci facciamo un altro giro Dai Ma no ma che Veramente Che cazzo di giro Ma non rompere Sei morto? Ma no ma no Mi prendo all'ultimo momento Da che hai ragione Bene Adesso Ah eccola qua dov'era Sì sì dai vieni dritto Metti la chiave 81 di vita Grazie a sta cazzata Che figata Aspetta 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 Perdonatemi No eh No cazzo Non si apre Che cazzo Ma che anche dall'altra parte Vaffanculo Vaffanculo Ma dove sei Ale? Ehi Ma metti anche dall'altra Ma che cazzo di Mirai amico Ma muori Mi apre la porta Sono chiuso in mezzo Non mi si apre più là Vai vieni Vai di là E metti la chiave anche di là Perché se no io non posso più passare Che non l'ho presa la tua Bello sto punto da fare Bellissimo Allora aspetta Oh la mette Fa Non ci credo Ti giuro spacco tutto Se non ne esco guarda Eh poi non devi fare tutto il giro Cioè il passaggio 6 Ma non mi faceva Mettere la chiave Sì Eh deve essere dritto per dritto mi sa Dritto per dritto Dove cazzo vai Sì vai dritto No 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 di lì Non di lì Torni indietro Vabbè te la vuoi rifare tutta allora Oh Va bene un po' di vita in meno Oh 100 dai Dritto Sì di qua Oh Occhio al fuoco Abbassati 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 Vai Ok Ora metti la chiave Non la mette Guarda La mette dai Gira Gira Veloce Eh te lo levati allora Non ci credo Niente niente Anche il gioco paccato E questa non l'apre cazzo Vieni Eh non è Non è che sono qua Ok Se ne apre una si chiude l'altra Va bene Anche se ne apre Guarda di là Guarda di là Secondo te se mi salto lì sul muretto Cosa succede? Esplodi Dici Ci provo? Va bene Se ci tieni Che glitcher No sarà un segreto Che professione fa il glitcher Arrivo Oh Dall'altra parte della mappa Senza aver fatto la mappa Lol Guarda cosa c'è Mi sembra che sono ancora concentrato Ok Questo è un po' di Cieny secret Tre Cieny secret E ora risaltiamo lì dai Ma questo infatti non era Obbligatorio Pronto a sentire un urlo di un giapponese? Uh 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 Il cozzo di giro sto facendo Mi sa che siamo morti ora Ma ci sale che taformina? Eh mo come si risale? Tutto dall'altra parte quindi No Fermo Lol Non cazzo Dobbiamo tornare indietro Studiamo Ma c'è un teschio eh? No vabbè Dove c'è un teschio? Tornare indietro guarda Ma se mi butto in questa nuova 18 oppure incasso 10 di vita? Eh che non lo so Qua c'è il fumo quindi Non sgambettare su ste cazzo di paretine È velocissimo Speriamo che ora funzioni Uno Due Io sono morto invece Questa è una punta più difficile Basta ora Cosa si è fatto male? Eh Che cazzo dice? Ma basta Fa male fa male veloce Perché scotta 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 Oddio addio Ma smette? Non ci credo oddio No Ci credo Quattro di vita Tre di vita Addio Due di vita Una di vita Ma non servono armi qua Serve solo skill Teoricamente Ok Allora siamo morti Perché noi la skill non ce l'abbiamo Che buonga Abbasati Sì sì 36 di vita Di colpo Balla Lizio Ma io qua non ho capito Quando cazzo devo saltare Oh Sì 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 Bello 55 di vita Me lo dimentico sempre Il fuoco È figlio sta cazzo di Ah Basta però Sai Ma vaffanculo Vagia Avrò rimesso dieci vite Nella lava Tana Wasted Wasted Dale Wasted Wasted Oh Non mi ricordo Sei di vita Bella Dai che bisogna di Lezione Di sparare Minchia Troppo E fammi passare Gioco di Mico Merda Tutte le volte Sto giro Sua memoria Guarda Destra Sinistra Fuoco Giù giù Non ci credo Perché sono caduto Nella lava 47 Di vita Zero E' esploso Fine 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 Guarda no Ci sono fatte Lì tutti Finalmente Ah bella Sei un grande Vedi Adesso Allora aspetta Lo stronzo Guarda cosa c'è Non posso Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non faccio sesso Ti lascio fare una prova Dag Sì Fermo Metti k Guarda un po' Cosa c'è scritto Da me Sei attento Ok Mi sono avvicinato Vedi queste fessure Parano Missili Ho 32 di vita io Quindi stai pure allo spawn Non ti preoccupare Tra poco ti raggiungo Non l'hai premuta Ci riproverò Quadro Va bene Allora ti guardo Gli lancio un po' di mine dentro Ah ma guarda che c'è anche Lo lascio qua Tanto ho 97 Per 3 che cazzo Lo piglio a fare No no infatti vai Provala Non ti guardare minimamente intorno Vai dalla leva Lancio un missile io Cioè gli lancio una granata di dentro Prova Secondo me non funzia Oppure in una posizione che ora ce l'hai nel culo Non ci credo Oh basta ora seria Merda Velocissimo Ho fatto una strazzata Ho fatto una strazzata io Assurdo Sì 10 di punta 15 Mi butto nel vino È morto Dai di nuovo Dai 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 Vai Eh Un rombo Un segno di vittoria Quando sento la granata Tra l'altro io ho sbagliato E mi sa che non ho lanciato una su una piattaforma Infatti sto sentendo Un beep strano Sì Beh tutto qua Mille Basta morti Basta Basta morire 97 sono di nuovo qua Sei di nuovo lì Sono di nuovo qua Assolta Vai eh Ora premo un po' qua a caso Si aprirà qualcosa di segreto Che non avevo ancora visto E finirò il livello Invece Niente vado Vai Forse coraggio Non tornerai indietro Comunque Comunque E se mi abbasso No 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 T'arrivano con troppa violenza addosso Non ce l'hai Non ce l'hai fatta Veramente Roll Ora sono con la testa dentro Ah no Ci credo Vabbè Scopami in culo Puttano Dai siamo in due Dai Andiamo assieme Guarda Sì eh Ti prego gioco Senti quante mine intanto Dimmi che sei vivo Non ci credo Appena tu sei arrivato Che sei esploso Sono partito dietro di te Ho detto Non ci credo Quanta hai di vita? 95 Ok io ne ho di mena Ne ho 90 Vado io avanti Faccio Mi piglio il colpo Me ne vado bello lontano Sì ma quando vedi che esplodo Corri a secca dentro Ok Fatta da 8 a sto punto Tutti che si sacrificano Uno tira la leva Vai Non è inutile che vai lento È inutile E se io vado un po' più a sinistra invece Ti ha nienta Non ti ha nienta Sì Ritinta Ritinta Merda Sono Sono resistente Ma non può essere così cattiva la stanza Ma ci ti Ti guardo Vai Magari questa è una volta buona Guarda eh Che cattiveria Spinto fuori 10 di vita Ma se ti spinge Perché devi sprintare Praticamente Sprintare Minchia quasi Se ce l'avevi fatta Vai Con i pugni stavolta Ma vai No Ma va Niente Passi la prima Ma la seconda Gli rilancia subito Ce l'ho fatta Ma lo avete un po' 71 Prendo il medikit E vado a 91 Ah che cazzo prendi il medikit Eh tanto Per morire adesso Guarda eh Guarda che fine del cazzo Che facciamo tutti Tu ci sei? Aspetta che Arrivo pure io Com'è che bisogna farlo Sto punto Gioco Guarda che bravo Che schillato che sono Sono di nuovo Lancio un po' di mini Che portano sempre bene Ti rendi? Non ci credo E ora? Cosa hai fatto? Ho lanciato una mina Vabbè vado io No 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 Fermo 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 Via Levati proprio da lì Ho il lanciagranate Che l'ho preso di culo Sì vabbè Chiudo subito Appena lancio un colpo Però eh Vai Sei volato giù Ma come hai fatto? Ma come cazzo hai fatto? Eri lontanissimo Eri qua Ma lontano Spinto giù Non ci credo Neanche tra un milione di anni Vabbè prova Fatti il tuo tentativo Questo è uguale eh Wow E' una anche là in fondo Se la vedi Diti Cosa è un bug Mio Dio Aspetta un po' troppo lontano Sì L'hai presa? Va bene Ora vatti a sacrificare Ma vai tu Vai Ma non voglio Ancora due sprong Uno Oh no Ftunk Aia La schiena Comincia a spezzarsi Ma era questo eh Ale Basta Questa sarà la prova violenta Che prova violenta? Ce l'hai fatta? Sei lì? Tentativo numero 300 Aspetta 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 Neanche abbassandosi Quella Quella raggi Che cazzo Ah ma sei tu Piano piano Ale No non va Vado? Andiamo insieme Tre Valla Otto di vieta Vai Tre Due Uno Vai Oh eppure in due Non è facile Perché? Dai questa è una volta buona Dici Mira Comincia a mirare Quella cazzo di roba Ok Metti i pugni Che quei pugni Si vanno notoriamente più veloce Ok Tre Due Uno Via Oppure il volo indietro Io mi sono fatto Fuori dall'edificio Io pure Non ci credo Guardando pure io Se Cosa Cosa avrò voluto dire? Uuu Sembrava eh Che si abbassava Porca Eva Ti vuoi fare il tuo tentativo? Ah bella domanda No 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 Due Uno Fatta Oppure l'ho presa Un'emozione per sempre Si Sì Sessanta Tre Di vita Strozo Sedici Niente Beccami Guardami Vai Cosa fai? Lancia un missile come controprova? Lo vedo Entra lì dentro Hai visto come parte il missile bene? Che entrata Che cannoncino Si vede tanta roba Che cazzà che ne tira Tutta una stronzata Infatti Di sviluppatore Dietro eh Fatta Oppure C'è una zona cieca Sono in giro con la mappa Che cazzo è stato? Carca potana Cosa Prima un po' di armi 1,2,3,4,5,6 A caso Niente Niente Muoviti col wild Cosa? Bravo Hai visto? Vabbè Sì Ok Aspetta Ma No Te l'ho fatto anche di là Oh Si era aperto No Va a tempo? Muoviti No Aspetta il prossimo Vaffanculo Uno si era aperto Dai riapri anche il altro E' a tempo Non ci credo E ora posso tornare indietro Gioco maledetto Vado? Bastardo Uno Un gioco bastardo Gioco Due Che cosa? È un incubo Allora Sono vero Si lo faccio Cosa c'entrava a ricevere Due Non lo faccio Con tre di vita L'ho premuta L'ho premuta Basta Mi vado a ammazzare Sii E ora Che cazzo è successo Dopo aver tirato Quella roba lì Allora L'hai tirata la leva Ma è uguale Che cazzo Ha cambiato veramente A sto punto Ha cambiato La massa Ha tirato tutte le parti Ora Ha tirato tutta Si O si è aperto Qualcosa di segreto Tornò Eh dove torni Tornò dalla lava Eh Lava man Oh quello che volevano Che noi facessimo L'abbiamo fatto no Scoperto il trucco La leva la tirata Mi è rimasto un Forse dobbiamo tornare giù Dalle scale dici Dalla lava Scusa c'è qualcosa Oh sto rifacendo il giro Quello da dietro Ma un mitico percorso no Dei quando Infatti qua dietro non c'è un cazzo Fermo C'è un teletrasporto Guarda con K Vai 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 Che cazzo è sta roba Cosa c'entra Che figata Via via Guarda di sotto io Ma cosa Ma scotta il terreno Pure qua E non c'è un cazzo Io per affrontarlo Sto grassone Vai Allora Fai una cosa Lasciaci le penne Granite Scende Oddio Ma che cazzo No vabbè Lasciaci le penne Torniamoli con tutto Vabbè finché posso Gli tolgo vita Sto leggendo al naso Madonna 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 Grida 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 Lo Wang Niente Assetti col posto Odor Ah è lui Che coi piedazzi Per terra Fa scottare tutto Ma vaffanculo Correggia anche Che figata Ma che cazzo L'avrei mai detto Che incontrava un cazzo Di rotatore di sumo Ora tutte le armi Prendiamole Qua c'è la riot In un terreno ardente La riot Qua c'è il lanciamissile Mi prendo il lanciamissile Lo userò fino Alla morte Il lanciamissile Non ci voglio credere Penso sia Ce n'è voluto Guardami un po' Con K Vabbè Dicevo Penso sia una delle cose Più Difficili Nella mia carriera Videoludica Che abbia mai affrontato Penso E È da capire anche Ti giuro Mi sono quasi mai scervellato Così tanto Per trovare una soluzione Ci voleva tanto Ale Mi sembra Mi sembra Ma che Molto facile Hai preso anche Il granite launcher Ho preso il granite launcher La riot E le mine Non volevo andare giù E farmi tutto il giro Per prendere le Allora raggi Allora Sì Eh però teoricamente La railgun È la più potente Che potremmo Avere Io si inghiozzo Tanto Abbiamo i pugni E la testa Non c'è? Non c'è Almeno Vabbè Chi se ne fotte Voglio Vai abbassati C'è che devono farti Fiori qua Sennò sei strunz Io sono qua Bene Vai Vai Che già si inizia a scottare da qua Vai Così Quasi diventa una complessa Anche questa Eccomi Vai Oh basta Occhio alle mine Occhio occhio Vai Ah c'è la vita sopra ora Certo Anche prima l'aveva Non la vedevo Ho lanciagranate ora Ah io lanciamissili Vattin Muore bastordo Oh Ho lanciato le teste Ma lanciato la testa Sei ancora vivo Vai vai scaricagli tutte Ah minchia Oh occhio Un'altra testa Grande Dai Ma quelle pedate di merda Cosa sono Cosa Olè Ma cosa c'entrava Ora non è un cazzo Riprendiamo Che andiamo lì Lo seguiamo a sto giro Bazzai Questa è un po' Sarebbe stata da fare A primo tentativo Dopo che abbiamo perso 15 giorni 15 anni di vita Sarei Sarei Guarda Tentato ad andarmi A prendere la railgun Ma tanto Guarda Siamo in due Guarda quanta vita Li abbiamo tolto Bravo Bravo Quattro di vita in meno Stronzo Dimmi quando sei Io sono all'inizio delle pedane Oddio Va bene Vai 78 di vita Con cosa inizia a sparargli Ah mine 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 Glielo attaccate tutte Non ci credo Ora fado di pompa Non ci credo Era lancio missili È morto dai Sì Sì Due di vita io No Occhio Grande Minchia che filmativo Cos'è che gli prende l'occhio e se lo mangia Con i pacchetti Ma va a chiedere Tant'è Che due mostri E un segreto Non l'abbiamo visto Quelli ce n'erano besci Eh no Però due mostri Incredibilmente Non l'abbiamo trovato 86 minuti Come un film Porca puttana Non l'abbiamo trovato 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 Grazie.